Montegalda, Montegaldella, Castagnero, Longare, Nanto, Barbarano e Grisignano. Totale 27.000 cittadini che dal 3 febbraio dovranno rivolgersi a 90 o torri di Quartesolo per il servizio di guardia medica notturna. Con una lettera ai sindaci, infatti, l'Ulss8 ha comunicato che l'ambulatorio che si trova nel palazzo del municipio di Montegalda chiuderà i battenti dopo decenni. Per i residenti il disagio di doversi spostare, per i sindaci la preoccupazione che il pronto soccorso degli ospedali ora si riempia di pazienti e che ai residenti venga tolto un servizio che era un punto di riferimento per la sanità del territorio. Mio marito è un disabile per cui voglio dire è un problema. Penso proprio di sì che sia un disagio, adesso non so perché la chiudono. Perché mancano, esatto, come di solito succede in Italia. Preoccupato, insomma non è un bel segnale. Preoccupato, dove dobbiamo arrivare per... A 90. A 90. Eh, ci pagheranno l'autostrada. Può essere un disagio per i cittadini. Ma certo, e tanto anche. Io ho sentito. Cosa ne pensa? Penso che sarà un disagio per tutti i cittadini. Ecco, dovranno fare più strada. Eh, certamente, penso proprio di sì. Da parte sua la direzione dell'Ulss8 fa presente la difficoltà sempre maggiore nell'assumere medici di medicina generale, di guardia medica o di sostituzioni. Aumentano i medici che vanno in pensione e la pandemia non aiuta. I sindaci, pur comprendendo le ragioni, faranno di tutto per far cambiare idea all'azienda sanitaria. In agenda una riunione per fare una proposta all'Ulss8, mettere a disposizione nuovi locali. Se serve, magari, lanciare anche una raccolta di firme. La provincia berica chiede di non essere abbandonata.